Una vita ben spesa Nel racconto di questa parabola c'è l'esempio della nostra vita che è ricolmata dei doni e della presenza di Dio e che siamo chiamati a far frutto nella nostra esistenza moltiplicando il dono ricevuto. Dal Vangelo secondo Luca Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi consegnò a loro dieci monete d'oro dicendo fatele fruttare fino al mio ritorno. Il protagonista di questo racconto è Cristo nel suo andare e tornare c'è il tempo della chiesa. Il tempo che viviamo oggi nell'attesa del suo ritorno alla fine dei tempi. Dieci indica una pienezza. Sono i servi che da Dio hanno ricevuto il Vangelo. Nel segno delle monete non c'è solo il dono dei talenti interiori e personali. Nelle monete d'oro c'è l'immagine del Vangelo ricevuto. Pur essendo sempre presente Gesù accanto a noi Egli ci lascia nella libertà di portare o meno frutto. Una moneta d'oro indica la presenza stessa di Dio nella mia vita. Annunciare il Vangelo non è mai condividere una serie di precetti o di idee ma è condividere l'incontro con Gesù Cristo morto e risorto per noi. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Nella figura dei cittadini che rifiutano il futuro re c'è il significato delle persecuzioni. Ad essere rifiutato non è solo Cristo ma anche chi è con lui. C'è quel segno di un mondo che non accetta il Vangelo e la gratuità dell'amore di Dio. Dietro questo rifiuto c'è il desiderio di prendere il posto di Dio. C'è la pretesa di potersi salvare e guidare da soli. La paura ad accogliere che Dio mi possa amare così come sono perché io stesso non mi amo. Dopo aver ricevuto il titolo di re egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Nel ritorno del re c'è la descrizione della fine dei tempi e della fine della nostra vita. E questo è il tempo in cui siamo noi stessi a guardare quello che abbiamo fatto o non fatto. La vita è stato un dono prezioso ma io cosa ne ho fatto? Si presentò il primo e disse Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate dieci. Gli disse Bene, servo buono poiché ti sei mostrato fedele nel poco ricevi il potere sopra dieci città. Il primo servo ha saputo moltiplicare con grande creatività la moneta ricevuta. Non ci viene detto come ma nella logica del Vangelo lo possiamo facilmente intuire. Già solo il primo servo ha ottenuto quanto il re aveva condiviso con i dieci servi dieci monete. C'è una sovrabbondanza che ci ricorda quanto grande possa essere il potenziale racchiuso nel Vangelo. Poi si presentò il secondo e disse Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate cinque. Anche a questo disse Tu pure sarai a capo nei cinque città. Anche il secondo ha saputo moltiplicare il dono ricevuto meno del precedente ma pur sempre con grande abbondanza. Venne poi anche un altro e disse Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Arriviamo al terzo servo che a differenza degli altri ha nascosto la moneta. La moneta è stata nascosta in un fazzoletto. È stata avvolta in un sudario e considerata come morta. Non è stata usata ma semplicemente messa da parte. Il servo era cosciente del valore della moneta ma ha preferito metterla da parte. Avevo paura di te che se è un uomo severo prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Scopriamo che a trattenere il servo dallo spendere la moneta è stata la paura di Dio. Viene descritto un re severo e autoritario che non conosce misericordia. Il servo ha evitato di conoscere l'amore del suo futuro re. come con la moneta si è chiuso in se stesso indifferente all'amore per i fratelli. Gli rispose dalle tue stesse parole ti giudico servo malvagio sapevi che sono un uomo severo che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. il re conferma l'idea che lo stesso servo si era fatto di lui. Nella durezza di queste parole risuonano la mancanza di misericordia. Se non so perdonare neppure a me sarà perdonato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. La figura della banca è davvero particolare. Non ci viene detto a cosa potrebbe corrispondere ma lo possiamo solo immaginare. La banca viene descritta come un luogo nel quale far crescere la propria ricchezza. Un luogo dove donare quanto uno possiede per poi riaverlo con gli interessi. Se l'esempio dei primi due servi è indicazione di chi ha annunciato il Vangelo e quindi lo ha moltiplicato quello della banca suggerisce la via della carità verso i poveri. Sono essi la banca verso cui donare la moneta d'oro affinché il re possa vederne gli interessi. È l'amore condiviso che una volta donato si moltiplica. Disse poi ai presenti toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha dieci. Gli risposero signore ne ha già dieci. Io vi dico a chi ha sarà dato invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Un testo duro questo ma che ci ricorda l'urgenza di vivere la carità e l'annuncio del Vangelo. A chi si è chiuso nel proprio egoismo la condanna appare ancora più severa. Cosa sto facendo della moneta che Dio mi ha affidato? Quali tesori di grazia sto invece nascondendo? a chi a chi a chi a chi a chi Grazie a tutti.